Musica Ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Apriamo il nostro telegiornale parlando di sanità. L'ospedale di Cava dei Tirreni accoglie dieci nuovi infermieri nel suo organico. Una buona notizia, ma che non soddisfa del tutto i rappresentanti sindacali, che chiedono più risorse. Vediamo. L'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni accoglie nuove risorse da inserire nel team di medici ed infermieri. Dopo oltre quattro mesi dall'accorpamento dei reparti di chirurgia ed ortopedia dell'ospedale di Cava, sono stati chiamati dieci nuovi infermieri per dare il via ad un rafforzamento dell'organico. Lo scopo è quello di tornare nuovamente ai ritmi ed ai servizi erogati prima della pandemia. Un segnale di apertura da parte della Direzione Generale nei confronti del nosocomio metelliano. Tuttavia, l'ospedale necessita ancora di personale medico e di risorse da inserire immediatamente nell'organico per un assetto riorganizzativo idoneo e corrispondente alle esigenze dei pazienti. Come ha affermato anche il rappresentante della CISL, Giovanni Lopez. Questa mattina stiamo scorporando i reparti, quindi l'ortopedia ritorna in modo naturale nella sua sede, la chirurgia altrettanto. Il personale un po' di infermeristico ce n'è arrivato, quindi giusto per aprire in tranquillità. Quello che ci manca come il pane sono gli anestesisti e la reanimazione, che purtroppo senza di essa siamo messi male. Siamo messi male perché, oltre ad avere posti letto, io ho praticamente un unico anestesista di turno. Se c'è un intervento perché è un'urgenza, io rimango scoperto con l'urgenza di buon soccorso. Entrato in sala operatoria, io fuori, non ho nessuno. È proprio l'altro giorno, è proprio l'altro giorno, praticamente mi è capitato, mi è capitato che abbiamo trasferito un paziente e siamo rimasti con un unico anestesista che era impegnato in sala operatoria. Abbiamo il problema ortopedici, che tra poco ne rimarranno tre, e la stessa cosa è per la chirurgia, oltre praticamente senza considerare i medici di pronto soccorso, che ormai sta venendo quasi dimenticato, ma era il problema principale. Secondo il sindacalista Lopez, l'ospedale di Cava dei Tirreni ha subito maggiormente le conseguenze della pandemia. Perché lo scotto c'è da dire che l'ha pagato solo Cava dei Tirreni. Di questa pandemia, lo scotto grosso, in questa azienda, l'ha pagata Cava dei Tirreni, Santa Maria dell'Urlo. L'ha pagata perché abbiamo praticamente chiuso la reanimazione, l'ha pagata perché abbiamo accorpato i patini, i reparti, e abbiamo mandato personale a ruggi. Gli asti pressi sono rimasti praticamente uguali a com'erano. Noi abbiamo dato. Adesso fosse il momento di ricevere? Faccio domanda. Ed intanto, sull'argomento, sono intervenuti anche i gruppi consigliari La Fratellanza, Siamo Cavesi, Fratelli d'Italia e Forza Italia, che in una nota stampa condivisa hanno sottolineato che il ruolo dell'opposizione è stato determinante per sollecitare l'amministrazione comunale a chiedere spiegazioni ai vertici dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi d'Aragona di Salerno sul ritardo dell'invio degli infermieri da tempo promessi. Siamo consapevoli, hanno concluso, che l'assunzione dei dieci infermieri è solo il primo passo verso un più complessivo piano di rilancio del nostro ospedale, al quale ancora mancano medici ed operatori sanitari in settori di importanza nevralgica per il Santa Maria dell'Olmo. A partire dal lunedì 8 marzo, la campania potrebbe ritornare in zona rossa. E' attesa in giornata la decisione della cabina di regia del governo. Partite intanto a Cava dei Tirreni, le vaccinazioni del personale scolastico. E' attesa nella giornata di oggi la decisione della cabina di regia del governo che potrebbe sancire a partire dall'8 marzo il nuovo passaggio della campania nella zona rossa. Anche in campania, infatti, si è registrato nelle ultime settimane un fortissimo incremento di positivi al Covid-19, connesso alle varianti, soprattutto quella inglese. Lo scenario attuale, si legge in una dota dinamata nel pomeriggio di ieri dall'unità di crisi, rende ormai inevitabile la zona rossa nella regione. Per far fronte alla situazione dedicata, è stata disposta la realizzazione di tamponi di massa nei comuni nei quali si sono registrati maggiori incrementi di positivi, tra i quali Castellammare di Stabbia, Pompei e Torre Annunziata. Intanto, focalizzando lo sguardo su Cava dei Tirreni, hanno preso il via nel pomeriggio di ieri, presso il centro allestito all'ex circoscrizione di Santa Lucia, le vaccinazioni del personale docente e non docente degli istituti scolastici cavesi. In particolare, i medici e gli operatori sanitari dell'ASL Salerno hanno iniziato a vaccinare il personale dell'istituto comprensivo Don Bosco, per proseguire nei giorni a seguire, con tutti gli altri istituti cavesi e con gli ultraottantenni. Il personale docente e non docente cavesi, ma che svolge l'attività fuori città, sarà vaccinato presso il centro della propria residenza, a seguito della registrazione sulla piattaforma regionale. Sono in via di completamento le procedure per l'attivazione di un secondo centro di vaccinazione, ha fatto sapere l'assessore alle politiche per la tutela della salute, Armando Lamberti. Con il direttore del distretto sanitario 63 Pio Vecchione, è stata individuata un'ulteriore sede, che consentirà di accelerare ulteriormente l'erogazione delle prestazioni sanitarie con misura di sicurezze aggiuntive. E continua a crescere il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 in costiera amalfitana. Numeri preoccupanti a vietri sul mare. Dove il sindaco De Simone ha annunciato misure più restrittive. In costiera amalfitana l'emergenza Covid-19 torna a destare preoccupazione, soprattutto per il dilagare della variante inglese. Intanto il sindaco di Vieti sul mare, Giovanni De Simone, alla luce del notevole incremento di positivi sul territorio vietrese, che ha toccato quota 81, ha annunciato, a partire dalle prossime ore, misure più restrittive. Attualmente la situazione non è delle migliori. Ieri abbiamo registrato un aumento di 17 casi in meno di 24 ore, quindi siamo arrivati a 81. Diciamo che la preoccupazione è alta, perché c'è un forte numero di contagiati, quindi bisogna un attimo prendere misure di prevenzione. Abbiamo fatto un'ordinanza proprio a destra, nella quale abbiamo chiuso le piazze, le ville comunali, i parchi giochi del territorio. Per il fine settimana saranno chiuse le spiagge, quindi è anche un cercare di disincentivare a venire sul territorio, proprio perché c'è questa problematica. In più abbiamo chiuso le chiese e anche in parte quelli che sono gli uffici comunali, perché purtroppo c'è davvero una grossa difficoltà. Attualmente monitoriamo comunque costantemente quella che è la situazione. Abbiamo messo in campo varie forze, la posizione civile, la via di sviluppo, l'anti, i carabinieri e i vigili urbani, ovviamente a fare i controlli. Però quello che dico sempre, c'è bisogno di autocontrollo. Deve essere noi prima a cercare di evitare quelli che sono gli assembramenti, utilizzare quelli che sono le misure di sicurezza, quale la mascherina, cercare di evitare il più possibile di assembramento. Purtroppo spesso noto che questo non capita, ma non soltanto al virus, questo è un pochino ovunque. Quindi la gente ancora deve ben capire. Il sistema di vaccino è partito, però proprio di queste ore è arrivata un'altra informativa della regione Campania, la quale dice, attenzione, c'è una variante selvaggia del virus COVID-19, la quale attualmente non sappiamo ancora se realmente i vaccini possono essere buoni per questo tipo di variante. Anche chi si è vaccinato, questa è un'altra cosa che dobbiamo dire, deve utilizzare la mascherina perché poi effettivamente non sappiamo se per le varianti i vaccini funzionano per le varie varianti che ci sono. Bisogna stare attenti. Come annunciato, è stata riaperta ieri sera, intorno alle 22, l'ex statale 18 travietri sul mare Salerno. Il traffico veicolare è regolato a senso unico alternato mediante impianto semaforico. I lavori di bonifica del costone roccioso, franato il 10 febbraio scorso, garantiscono le condizioni minime di sicurezza sulla costia esterna, protetta dalle barriere in Calcestruzzo, New Jersey. Una buona notizia per tanti pendolari della costiera amalfitana di Cava dei Tirreni, che hanno convissuto con disagi e ritardi nelle ultime tre settimane. E a Salerno scoperto una mega discarica a pochi passi dal mare. Vediamo. Da un lato l'immagine elegante, pulita e turistica del porto Marina d'Arechi, dall'altro un fiume di rifiuti in cui è stato sversato di tutto. Ad occhi nudi sembra essere una delle discariche abusive più grandi mai rinvenute sul territorio comunale di Salerno, in un'area, tra l'altro, anche di proprietà demaniale. I vigili urbani di Salerno, giunti su segnalazione di un cittadino, hanno trovato di tutto. Nascosta dalla strada, da una piccola collinetta di terra ed erba, la discarica è stata evidentemente utilizzata per disfarsi di materiale da risulta da lavori di ristrutturazione ed edilizi, porte, finestre in vetro e legno, materassi infissi ma anche pneumatici, elettrodomestici, giocattoli, laterizzi. Da una prima indagine dei vigili urbani di Salerno, che hanno compiuto un sopralluogo questa mattina guidati dal comandante Rosario Battipaglia, non sembrano esserci rifiuti speciali. Il lavoro d'indagine della Polizia Municipale prosegue alla ricerca di elementi nascosti tra i rifiuti, che possano aiutare i caschi bianchi a risalire ed individuare i possibili responsabili. Secondo i vigili urbani, a gennaio, in un precedente sopralluogo nella stessa zona, non erano stati trovati rifiuti e quindi il materiale è stato accumulato in pochissimo tempo. A fare ancora più rabbia è che ci troviamo davvero a pochi passi dall'isola ecologica di Salerno. Una brutta immagine, ce ne siamo accorti, unicamente con l'assessorato all'ambiente, e siamo intervenuti prontamente, perché devo anche dire che a gennaio non c'era niente, non c'era assolutamente niente. Quindi diciamo che all'inizio, nonostante ci sia un po' di roba, la zona è parte del maniale e parte anche di qualche privato, quindi ci sono i dati in corso. E torniamo nella città metelliana. Con i programmi PIX, la figura del cooperante sulla disabilità diventa operativa a Cava dei Tirreni. Ricucire, collegare e valorizzare. Sono queste le parole chiave del programma integrato Città Sostenibili, che vede diventare operativa la figura del cooperante sulla disabilità a Cava dei Tirreni. Si tratta di un'importante funzione, che è stata istituita su proposta dell'osservatorio cittadino delle persone con disabilità. La prima iniziativa ha riguardato un incontro preliminare sui programmi PIX, che si è svolto nella Sala dei Gemellaggi del Palazzo di Città alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, del consigliere comunale Anna Padovano Sodrentino e dei funzionari dell'ufficio urbanistica. All'incontro ha preso ovviamente parte il cooperante alla disabilità, indicato dall'osservatorio cittadino Anna Ferrara. La figura del cooperante per la disabilità, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Annette Altobello, è stata fortemente evoluta dalla nostra amministrazione ed apre un nuovo corso fatto di inclusione e partecipazione. Nel corso della riunione sono stati illustrati i primi progetti riguardanti l'oasi naturalistica di Diecimare ed il parco inclusivo di Santa Lucia. È volontà dell'amministrazione comunale cambiare completamente l'approccio, programmando cioè in modo preliminare quelli che sono gli interventi che tengano conto dell'abbattimento di tutte le barriere, è evidenziato la consigliera comunale Anna Padovano Sodrentino, per dare maggiore vivibilità ed accessibilità a luoghi di grande pregio e straordinaria bellezza. I programmi integrati città sostenibile sono programmi complessi orientati al perseguimento degli obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed ambientale, miglioramento della qualità ed efficienza. E apriamo adesso la pagina dello sport. Per la terza giornata di fila, la Cavese dovrà osservare gli altri giocare, non potendo scendere in campo. Per domenica il calendario prevede il turno di riposo. Per la terza giornata di seguito nel campionato di Serie C, la Cavese si troverà a guardare gli altri giocare, in particolare le partite Vibonese-Casertana, Visceglie-Catania, Avellino-Paganese e Bari-Potenza. Tutte gare difficili per le quattro formazioni che, assieme alla squadra a cui lotta, lottano per riuscire a conseguire la salvezza diretta o almeno attraverso gli spareggi. Due partite precedenti che interessavano la Cavese erano state rinviate per i molti contagi da Covid-19 che erano stati riscontrati nel gruppo squadra metelliano. Si tratta della gara con il Potenza, determinante in ottica salvezza, e di quella più proibitiva con la Ternana e tutte e due le gare andranno recuperate verosimilmente in giorni infrasettimanali. Ma questa volta, il terzo turno di stop forzato che la Cavese deve osservare nel prossimo weekend è riferito al riposo previsto dal calendario. Se tutte le squadre avessero confermato l'iscrizione fin dall'inizio del campionato di Serie C, i metelliani avrebbero ricevuto al Simonetta Lamberti il Trapani, con la potenzialità di fare punti, almeno uno, ma ciò non accadrà perché lo stesso Trapani è stato escluso. Invece, le altre formazioni che lottano per la salvezza potranno ancora marciare. Tuttavia, passato il turno di riposo, la Cavese avrà sempre la possibilità di fare punti in tutte le partite che giocherà, perché non dovrà più fermarsi, se non in presenza di altri eventi che siano insormontabili. Mister Campilongo si augura di riuscire a recuperare più atleti possibili già per la gara con il Foggia, affinché la squadra riesca a rispettare le prescrizioni indicate dalla Lega Pro per la disputa delle partite. Serve avere a disposizione un minimo di 13 atleti negativi al nuovo coronavirus, dei quali almeno un portiere di ruolo. E la gara col Foggia è programmata tra nove giorni, il 14 marzo. Se si giocherà, il Foggia non potrà disporre dell'attaccante Dell'Agnello, espulso dall'arbitro nel finale della gara con la Vibonese per una scorrettezza su un avversario a palla lontana. Due giornate di stop. In caso di emergenza, non si potrebbe però giocare il 15 del mese, perché mercoledì 17 ci sarà il turno infrasettimanale che metterà di fronte la Cavese al Catanzaro e il Foggia alla Virtus Francavilla. Non ci sono al momento indicazioni sul recupero di Cavese-Potenza, la gara valevole per la 27esima giornata, però un'indicazione per Ternana-Cavese porterebbe alla data del 7 aprile, più vantaggiosa dal punto di vista logistico. Incastrare due partite in una fase finale del campionato già ricca di turni infrasettimanali non è semplice. Resterebbero solo il 31 marzo ed eventualmente il 21 o 22 aprile per collocare il match con i Lucani, che si spera possa essere ancora determinante, soprattutto per l'11 di Campilongo. Come tutti venerdì sera, alle 21, torna su RTC Quarta Rete Radio Playtag non solo Portici, la trasmissione di attualità e di costume condotta da Antonio Di Giovanni. Ascoltiamolo. Stasera è una nuova puntata di Non Solo Portici e la grande bellezza. Gli ospiti di questa sera sono Gianni Mauro, attore, scrittore, cantante e regista, Gerardo Amalante, docente, cantante e soprattutto attore in un gran film Napoli-Velata di Fersan Ozpetech. Pronto parliamo il dottor Marco De Sio, direttore dell'Unità Operativa Girologia dell'Azienda Ospedalea Universitaria degli Studi della Campania, Luigi Vabitelli, professore ordinario di urologia presso i corsi di laurea in fisioterapia, ossetrice, medicina e chirurgia e a corso di specializzazione in chirurgia plastica. I cantanti, l'avio musicale sarà affidato a Margot insieme ad Umberto Santoriello e a Dario Di Domenico. Ovviamente avremo i soliti meravigliosi video di Elena Tempestini, il fitness di Simona Mirra e di Carmen Catozzi, la moda secondo Joe Blu, Miravenosi che ci parlerà un po' delle sue poesie e tanto altro. Avremo la nostra meravigliosa Fabio Esposito, Maurizio Di Salvio, Sergio Mari, e la regia sarà affidata sempre a Roberto Cicco, poi di vado da Francesco Ferrara. Quindi io vi aspetto questa sera alle ore 21 su Radio Pretaglia e su RTC Quarta Rite. E avremo anche Simone Ciccotti, chef stellato dell'antica locanda di San Lorenzo di Perugia che ci parlerà della genialità in cucina. Quindi vi aspetto stasera alle ore 21. Non sono portici la grande bellezza. Ciao! E questa era la nostra ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del Tg di RTC Quarta Rite. e vi ringrazio per averci seguito il Tg di RTC Quarta Rite.